Buona domenica pomeriggio da Laurina Latifosa, approfittando della sosta nazionale e quindi dei campionati fermi, un video riassuntivo sulla situazione della Juventus, perché non ci eravamo più sentiti, ma la Juve nel frattempo ha giocato tre partite e con tre praticamente è stata una Juventus con tre facce diverse, perché contro il Genoa male il primo tempo, diciamo che c'era lo spettro del pareggio di Empoli e queste cose qua, per fortuna la riusciamo a sbloccare con un calcio di rigore e poi la vinciamo 2-0, ma insomma non si era messa benissimo. A differenza invece della partita contro l'Ipsia, dove la Juve fa una partita con la P maiuscola, quindi fa una prestazione incredibile, una partita culminata da errori arbitrali, l'espulsione a Di Gregorio che sfiora la palla con le nocche, una munizione per Copminers su un giocatore che poi in realtà è caduto da solo, il rigore per il fallo, di mano in area a protezione del viso, la Juve che rimane in 10 ma che vince la partita, una partita che dopo l'espulsione per tanti era scritta come una sconfitta, invece è sembrato che l'Ipsia giocasse in 10 e non la Juventus, quindi veramente la Juve li ha tirato fuori delle gran palle e ho fatto vedere che in Champions ci dobbiamo stare, dato che ci hanno escluso l'anno scorso dalle coppie per varie vicende, quest'anno facciamo la voce grossa e facciamo vedere che la presenza della Juve in Champions è proprio sacrosanta, quindi la Juve in Europa la Juve ci deve giocare, questo è una roba sacrosanta, poi una prestazione bellissima, gol, prestazioni clamorose, giochiamo domenica scorsa contro il Cagliari e come al solito ci accartocciamo su noi stessi, qua la colpa non è di tanto di Tiago Motta anche se forse l'unica cosa che si può contestare è l'aver tenuto Ildiz in panchina, qui la colpa è della squadra stessa perché la sblocchiamo, andiamo in vantaggio e invece che provarla a vincere perché comunque il Cagliari nonostante una squadra che si sta impegnando, sta cercando di comunque giocarseli tutto a viso aperto per mantenere la Serie A, ci mette in difficoltà e noi come al solito ci accartocciamo perché arretriamo, quindi il Cagliari ci segna con un rigore provocazione da Douglas Lewis, anche lì ci sarebbe tanto da dire, la colpa sì può essere Douglas Lewis in minima parte ma è nemmeno dare sempre la colpa a Dusan Vlaovic perché sbaglia il gol, perché si gioca in 11 e come ha detto Tiago Motta in un'intervista qualche settimana fa, si attacca in 11 e si difende in 11, qualcuno ha dirizzato le orecchie mamma mia, Motta è diventata Allegriano, no, semplicemente due per cose pratiche, dove non arrivi te arrivo io dove non arriva Vlaovic arriva Fagioli, dove non arriva Fagioli arriva Locatelli, dove non arriva Locatelli arriva Cambiaso faccio degli esempi, quindi si gioca per un fine comune che è la vittoria e si gioca da squadra, non con i singoli quindi Vlaovic sbaglia, non mi ricordo chi è Fagioli che praticamente la palla passa attraverso tutto lo specchio della porta finisce accanto, non siamo in grado di portare a termine la partita vincendo, perché sull'1-0 poi ci facciamo riprendere dal Cagliari, contando che il Cagliari prende palo, se non sbaglio con Obert, ma anche Cop Miners fa, credo, palo e traversa quindi ci siamo accartocciati su noi stessi, perché siamo arretrati e io ripeto, Tiago Motta in questo caso qua non ha colpe ma la colpa ce l'ha tutta la squadra, quindi dal primo all'ultimo, tutti, tutti ce l'hanno, tutti, non se ne salva uno cioè possiamo salvare Vlaovic perché ha segnato, poi per carità lo sbaglia, ma intanto il gol l'ha fatto e quindi se fai gol comunque il tuo lo fai, questo è, abbiamo visto frattesi che sbaglia un gol a porta vuota in nazionale, altri che hanno sbagliato gol a porta vuota a Canizzi sempre su Vlaovic, non mi pare il caso dato che ad ora i gol li sta facendo, quindi insomma un attimino calmi quindi è stata una bruttissima prestazione, come ripeto, il pareggio di Cagliari è uguale allo 0-0 contro Lempoli con la differenza che fino a quella partita non avevamo preso gol, il primo gol è arrivato contro il Cagliari appunto perché hanno segnato il suo rigore, quindi questo è quanto capitano infortuni, noi ne parliamo perché Bremer, rottura del crociato, fuori tutta la stagione tutto questo in Champions, in un quarto d'ora le catombe si fa male a Nico González per fortuna, fra virgolette, è un infortunio recuperabile in un mese nell'ultima partita contro il Cagliari viene espulso ingiustamente Consenzao perché l'arbitro a 30 metri non può vedere se Consenzao viene trattenuto no, un Consenzao che era già munito e dove l'arbitro si vede che parte già col cartellino in mano per buttarlo fuori per Ruggini, perché non so cosa gli avesse detto sulla munizione e infatti poi l'arbitro ha detto il disegnatore arbitrale gli ha detto che non abbia più per un po' di tempo perché ha fatto delle cose gravi quindi state tranquilli che se fate le cappellate poi il karma gira e torna indietro con gli interessi quindi questo è poco ma sicuro siccome poi sembra che ci sia la sudditanza psicologica e che la Juve compie le partite in questo caso qua è successo tutto il contrario perché si vede benissimo che Consenzao viene preso per la maglia perché stava scappando in area viene preso per la maglia perché la maglia fa questo movimento si sposta indietro e da sola indietro non ci va cioè non è che la maglia si muove da sola detto questo comunque a prescindere quindi torneremo dalla sosta con Copminers che appunto nella partita contro l'Ipsia subisce un colpo al costato frattura di una costola sembra che possa giocare con una specie di bustino era già successo in passata a qualche altro calciatore McKennie nella partita con la sua nazionale con l'America si fa male ma è un problema a una spalla quindi non è un fortuna muscolare quindi abbiamo un breme non ce l'abbiamo Nico González che dovrebbe rientrare a fine mese McKennie con un problema di spalle quindi dobbiamo stringere i denti e arrivare e vedere insomma di giocare le ultime partite di questo mese quindi senza Consenzao che sarà espulso anche lì l'arbitro è stato squarificato in altri casi è successo che la munizione sia stata sia stata cancellata la doppia munizione quindi non è più doppio rosso perché c'è stato un evidente sbaglio doppio giallo scusate quindi rosso perché c'è stato un evidente sbaglio dell'arbitro quindi tutto è possibile non credo la toglieranno perché non credo conoscendo però questo è quindi ci mancherà qualche giocatore Mott dovrà ridisegnare la squadra sperando che Nico González rientri nei tempi detti che McKennie non abbia grossi problemi con la spalla e Cop Miners con una fasciatura un bustino riesca a giocare almeno un tempo perché insomma passato diciamo gli infortuni rientrerà Consenzao Cop Nico González e quindi almeno diciamo la rosa ce l'ha quasi tutta a gennaio io credo che la Juve intervenga sia per quanto riguarda un difensore si vocifera Milan Skriniar perché vuole giocare di più al PSG non sta giocando non sta trovando il minutaggio quindi magari alla Juve viene con un'altra testa e quindi gioca e più la Juve sta andando su Visevlaovic perché appunto Milik che ha rifatto un'altra operazione in artroscopia ha allungato i tempi di recupero e la Juve non può praticamente attendere più di tanto quindi io credo che si interverrà sul mercato o anche nel mercato degli svincolati e quando poi rientrerà Nico González non sarà non è una vera e propria alternativa a Vlaovic però può giocare anche in avanti detto questo io vi do appuntamento alla settimana prossima alla ripresa del campionato sperando che la Juve volti pagina nel senso sia una Juve migliore rispetto a quella vista in campionato contro il Cagliari che sia la stessa Juve cazzuta di Lipsia perché quella è la Juve che non ci garba detto questo fino alla fine forza Juve un bacione dell'aula di Lipsia di Lipsia